Il progetto che abbiamo ideato si chiama Wormy. I bisogni che abbiamo rilevato sono principalmente due, il bisogno di tutti coloro che praticano attività ad alta quota di avere un capo d'abbigliamento che possa essere sia aerodinamico che contemporaneamente particolarmente caldo e anche il bisogno di migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti soprattutto per quanto riguarda i cambiamenti climatici che sono un argomento molto discusso ai giorni d'oggi. La soluzione che abbiamo trovato è una giacca che sia ecosostenibile e che quindi abbia un impatto relativamente basso sull'ambiente, che quindi non inquini, che usi materiali ecosostenibili e riciclati e che sia in grado appunto di aiutare le persone che praticano attività ad alta quota e che quindi riesca a rilevare il loro bisogno e che quindi li possa aiutare con le basse temperature. Noi pensiamo che il vantaggio principale del nostro prodotto sia legato all'ecosostenibilità, infatti abbiamo deciso di impiegare dei materiali riciclati e con un impatto molto basso sull'ambiente proprio per favorire l'ecosostenibilità del prodotto. Per quanto riguarda invece eventuali sviluppi futuri abbiamo pensato di attuare altre indagini di mercato e di cercare dei materiali che possano avere un impatto sempre minore e che possano essere allo stesso tempo più leggeri e anche più economici per migliorare anche il prezzo di vendita del nostro prodotto. Il premio Nuovo di Nuovo vuole premiare l'innovativa che voi ragazzi avete messo nelle vostre idee. Abbiamo deciso di assegnare il premio a coloro che secondo noi hanno portato un'idea innovativa a qualcosa di già esistente, a qualcosa che in futuro potrebbe essere un punto di vista diverso della realtà che abbiamo davanti. Sì, pertanto il nostro premio va al gruppo Hurricane col progetto Wormi. Il professore può venire qua invece di fare la foto? Ci pensiamo a noi a fare la foto? Comunque l'istituto è canossiane, como? Sorridenti, foto fatta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.